sindaco volete venire no 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 state vicino per favore venga venga dai 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 Michele allora posso andare dai prima volta in Italia una cosa del genere Michele Arcangelo Pezza alias Fraddiavolo momento storico a Michele Arcangelo Domenico Pasquale Pezza ha detto Fraddiavolo colonnello Duca di Cassano all'Oioni difensore del suo patrio cavaliere dell'ideale e dell'onore militare personaggio la cui leggenda si è trasformata in mito Alfredo Saccoccio monumento alla memoria dell'illustre colonnello Michele Pezza donato dall'Associazione Comitato Sant'Angelo con il contributo della Banca di Credito Cooperativo Associazione Comitato Sant'Angelo Itri, 8 settembre 2019 sembra la capo da me ok? sembra la capo da me bravo Raffaele bravo Raffaele Grazie.